nel 1972 quindi sono quasi 50 anni fa stavo facendo una serie di ricerche fotografiche per una mostra da fare alla croce verde che poi ha dato il via alla raccolta di tutte le foto storiche di Sestri eccetera e naturalmente siccome conoscevo suo padre Otterio era andato nel negozio a vedere perché allora avevano quelle famose fotografie stereoscopiche che si vedevano attraverso quei buchi che ci sono tuttora vicino all'ex negozio perché adesso c'è un altro negozio e si guardava lì dentro c'erano dei mobili ovviamente per propaganda ma poi c'erano delle bellissime viste di Sestri dell'epoca e poi c'erano anche dei fatti familiari in campagna eccetera e tutti i momenti andavamo lì e io magari vedevo solo quelle più basse quando ero bambino poi pian piano quelle un po' più alte poi riusciva a vederle tutte e la gente si fermava e guardava e vedeva queste cose bellissime e poi naturalmente vedeva i mobili dell'ultimo tipo che erano quelli di moda. Otterio mi fa eh ma tanta roba c'è la mia sorella tanta roba non posso darla insomma però lui è stato molto più bravo mi dice senti lo sai che io ho le pellicole così e così e io sono rimasto affascinato perché sapere che a Sestri Ponente c'erano pellicole del 1910 di Sestri Ponente siccome stavo facendo questa ricerca storica ho detto benissimo l'anno successivo nel 73 era il settantesimo della Croce Verde ero stato naturalmente intruppato dal consiglio di fare qualcosa oltre che la mostra fotografica e abbiamo coinvolto Onorio che è venuto nel salone della Croce Verde con quella macchina e con tutte le pellicole però erano infiammabili perché fino al 1940 i fil venivano stampati direttamente in celluloide altamente infiammabile se il meccanismo si fosse inceppato la pellicola prendeva fuoco perché la lampada il calore stesso della lampada è successo diverse volte tra l'altro altri a lui per fortuna mai e allora abbiamo fatto questa proiezione sono rimasto affascinato e con onore abbiamo detto perché non ti dai da fare per farle diventare che adesso c'è il procedimento ebbene dal 72 ad oggi finora lui ancora non ha trovato la strada probabilmente ora poi lo dirà probabilmente ci sarà una strada a breve per trasferire queste pellicole per finire volevo dire è una cosa bellissima lui alla difficoltà di proiettare infatti oggi noi veri vedremo un dvd che è stato stampato dalla fondazione ansaldo quando io e lui siamo andati la in corso perone a portare le pellicole per vedere se la fondazione ansaldo ce l'avesse stampate in pellicola ininfiammabile cosa è successo devo ammettere loro si sono presi quello che gli interessava di questa pellicola l'hanno fatta diventare un dvd e in forma diciamo digitale e poi hanno detto che non posso stampare la pellicola ci ho detto io sono felice di essere qua con il mio carissimo amico di tanti anni e adesso invece per quanto riguarda senza dover spoiler di quello che vedremo per chi non l'avesse mai viste è un avvenimento per chi non ha mai visto e quindi non diciamo cosa vedremo e ti lascio il microfono una parte buonasera allora sì effettivamente quella volta che ho dato la pellicola originale sulla fiducia alla fondazione ansaldo speravo ma senza fine di lucro anche avrei pagato anche che mi facessero la copia di tutto il filmato dove si vedono anche panoramiche di sestri che poi in seguito spero vi farò vedere loro hanno tenuto diciamo la parte politica hanno voluto far vedere che giornale avevano le opera in mano quelle cose lì ma io la politica la lascio da parte a questo punto dopo lotte infinite qualche volta ho provato a proiettare l'originale ma privatamente nel magazzino da me comunque pericoloso perché la pellicola praticamente viene fatta con la nitroglicelerina assieme a dell'alcol e se prende fuoco anche se è chiusa si forma l'ossigeno da sola così e se i pompieri lo sapessero male che faccia una cosa così mi legano mi denuncia così lasciamo perdere l'ho messa in cassaforte comprata una cassaforte vecchia la tengo lì ultimamente tramite un conoscente ho avuto l'indirizzo di una persona a firenze periferia che ha un piccolo laboratorio dove duplica pellicole non a livello nazionale ma lo fa l'ho contattato fine anno primi del prossimo andrò giù con mio figlio con qualcuno se viene anche carboni vedrò cosa mi prende e se ci fossero dei film di interesse nazionale può darsi che magari riesca avere qualche sconto altrimenti almeno questo delle sigaraie solo perché è girato a sestri e ci sono mio padre mio nonno e mio prozio che si vedono quello me lo pago io e appena possibile lo proietterò con quel proiettore qui in tutta sicurezza che sia che prenda fuoco altre cose cosa posso dire che è infiammabile prima del 40 no ma io giù a firenze porto questo tutto quello che ha poi ho anche un pezzo di filmato delle sigaraie anni 30 sempre infiammato dove si vedono le nurse che escono fuori in via in via soli ma quei bambini in braccio ma non posso proiettare perché mi legano altre altre cose posso raccontare non so mi ricordo mio papà che mi raccontava lui che mia nonna la sera quando finivano gli spettacoli pistacci castagne secche eccetera ne portava via a chili a chili e poi un piccolo aneddoto è quello che mia nonna era al botteghi a dare i biglietti e logicamente c'era un ragazzo che portava le caramelle brioche in giro però era goloso e rubava le caramelle allora mia nonna cosa faceva gliele contava dice guarda sono tante così chiuso allora lui cosa faceva su 50 caramelle le sfascia va tutte le leccava e poi le recando 50 caramelle come mangiarne due va bene a parte queste che sono però è vero è questo bene a questo punto non rimane che iniziare purtroppo ci sarà un pezzo che è un po noioso perché vedrete uscire donne 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 che sono non sono sempre le stesse e ce n'era io non so quanti e ve noterete la differenza tra l'impiegato e l'operaio l'impiegata e l'operaio c'è uno stacco enorme ci sono delle donne elegantissime e poi ce n'è una con un certo punto mi sembra che sia anche senza denti prende il pentolino della colazione se lo mette in testa e questo me l'ha detto una signora 40 anni fa mentre parlavo stranamente parlo sempre in un negozio c'è una signora novantenne mi dice me ricordo io lì davanti insieme ai figi e mi ricordo sta signora grassa e la vedrete la vedrete bene questo punto basta sennò poi divento prolisso bene bene io metto via microfono invitiamo piana l'operatore nostro e qui chiudiamo il discorso ciao 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 ciao